5 secondi Raggiungete la bomba e disinnescatela, occhi aperti per il nemico Hai perso il disinnescatore L'operatore alleato è rimasto E' la gamma, c'è questo non si che è rimasto Non c'è l'alteat Vabbè Dai mi sono divertito, ho fatto la mia prima kill C'è la mia prima kill contro gli altri Non so ne vede Trovo un'altra partita Gigi raga, ho fatto... E' stato divertito Ovviamente un Gigi Ostagio No 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 Non ho capito Dai ne manca uno che mette pronto Degli avversari Una cadena Una... Una legge Una legge Una legge Una cap... Io invece ho lui Piazza Piazza Ancora dieci secondi Ancora dieci secondi Ostati alla larga Mancano cinque secondi Posizione ostaggio sicura Dovete morire tutti Dovete morire tutti Piazza 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 Tocchio Muro rinforzato Piazza Piazza Muro rinforzato chi mi ha ucciso da dietro voglio vederlo resta solo un operatore alleato la squadra d'attacco ha l'ostaggio da che forte stanno missione fallita difensori neutralizzati ma sto con una pistola ok dai eh ma lo sapete perché c'è il nostro perché non mi sono scelto le cose giuste prendo il nostro blu oh oh e ora si che ci divertiamo dovete tenere l'ostaggio al sicuro fortificate la stanza oi da qua possono venire il muro è in sicurezza ancora 10 secondi 5 secondi il drone nemico ha trovato l'ostaggio prepararsi all'assalto il drone nemico ha trovato l'ostaggio prepararsi a respingere l'assalto mi hanno fatto uno tirando ok è l'ora della medicina porta contrappolata ti ha eliminato qualcosa dove non possono più vederci ma è mostro ma stai bello ma stai bello no scusate scusate no scudo ok ah è uno scudo non vedo nulla mi è andata quella lì hanno tirato lo che è andata che non ci fanno vedere e non era no ma dove metto il cinema il mio amico no no dovevate fare raga se ti davo la granata lì ne avevamo uccisi tutti bravissimo devo ricaricare ultimo attaccante rimasto in vita i difensori hanno avuto il voto BOOMBA squadra nazione round 2 vinto BOOMBA Karim vieni giocare al rainbow sto registrando ma ma si può giocare in due cioè se tipo ah ma quindi ma dico tu quindi potresti cioè puoi unirti alla mia partita quando vuoi e allora se ci ci cioè io mi devo un po' allenare perché l'ho comprato ieri non sono così tanto forte però si però si si lo so sto registrando un video figo un po' ho capito più o meno cioè ora dovete individuare l'ostaggio ma ma chi sta muovendo sono morti da solo cioè si sono fatti esplode da solo questi qua cioè noi ancora non siamo in partita magari li abbiamo fatti esplode da solo conclu inserimento tra 10 secondi 5 secondi all'inserimento il nemico ha sparato allo stagio i nemici hanno sedito lo stagio procedete al punto di estrazione perchè ora te lo mando aspettate che mi sto facendo questa partita poi non so se posso perchè ora sto mettendo un video perché tra poco lo finisco non so se non è aspettate no no ora io sto combattendo no no devo attaccare Sì, sì, lo so, quello lo so Che difendono l'ostaggio Io non ho nessuno L'ostaggio in vita Molto semplice Ok, quello lo c'ho io Vai, le andi L'ostaggio stabile Boom, 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 boom Vittoria Che è un match point? E' un match point? E' un match point? E' un match point? E poi giusto il video Continuiamo a giocare il caldo Sì, andiamo a giocare E' un match point? Ma sono morti tutti e due Cioè, sono morti da soli 10 secondi all'inserimento Cioè, sono morti da soli 10 secondi all'inserimento Io la regno Non ho altri personaggi Tentativo di salvataggio Ok Trovate e recuperate l'ostaggio Ma perché muoiono da soli? Ehi In vitale Ah, allora le ha fatti esplodere In vitale, in vitale Io ho perso la partita Morirete per mano mia E non pensavo Non pensavo che c'era il fuoco amico Curatemi Dai Dai No Forse solo perché ho fatto danno All'amico Per sbaglio Forse non mi vogliono Non mi animare Ok No, perché prima Io volevo sparare All'ennemico Invece sparando No, no Bella lei Sto giocando qualche partita Boom Ho vinto Su Rainbow Tiff Amo chiudo il video Può essere da buon demo Cioè io ho vinto Senza fare Allora Allora, comunque Allora Lasciano perdere Possiamo tutti Sfatti l'inventario Se non lo infolti Beh Uh, raga Oh, che Oh, posso Compaire Aspetta un secondo Raga Posso comprare Quale compro? Intanto Difensori o assaltori? Assalitori Ok Chi mi compro? Arsh No Sono mille Io Giù no Solo la prima riga Posso Che sarebbe? Che sarebbe? Sia Lui? E che fa lui? Io ho finito Ok Ora per fortuna Ho il mio nuovo Difensore Nulla Per oggi Penso che abbiamo finito Mi allenerò Su Rainbow Six E risolverò Nulla Spero che il video Vi sia piaciuto Se vi piaciuto Metto like Iscrivervi Il canale Attivare la campanellina E nulla Bella Ciao